Come ormai tutti sanno, lo Stato di Israele è stato il primo Stato al mondo ad essere costretto a dichiarare un secondo lockdown. Le misure sono molto strette, molto rigorose, prevedono appunto che non ci si possa allontanare di più di un chilometro dalla propria abitazione, tutti i posti di lavoro chiusi tranne i servizi essenziali, solo supermercati e farmacie e insomma si tratta di una riedizione di quello che noi stessi italiani abbiamo vissuto e oltre che gli israeliani abbiamo vissuto nell'inverno e inizio di primavera scorso. Ora questo avviene anche contro il parere degli scienziati a cui lo stesso governo Netanyahu Gantz si era affidato che invece chiedevano dei lockdown più mirati, più misurati, cioè relativi a certe zone, a certe comunità. Netanyahu ha scelto invece di chiudere tutto. È una notizia che è passata un po' troppo sotto silenzio e vorrei precisare subito, qui non si tratta di questioni dovute al fatto che Israele è lo Stato ebraico, sgombriamo subito il campo da illazioni di questo genere. Il punto è che Israele è una nazione in questo momento con questo secondo lockdown che dimostra come la politica politicata, gli interessi dei politici, gli interessi anche elettorali dei politici possono passare sopra anche le ragioni della protezione della salute dei cittadini. Che cosa è successo infatti in Israele? In Israele è successo questo, che le frange più integraliste dell'ebraismo israeliano hanno ripetutamente rifiutato dei provvedimenti appunto che li riguardavano, riguardavano principalmente le loro comunità, ma che avrebbero consentito di bloccare o perlomeno limitare la diffusione del coronavirus. Netanyahu che da queste frange integraliste trae un notevole appoggio elettorale non ha avuto il coraggio di andare contro queste constituencies che gli sono preziose al momento dei voti e quindi ha preferito chiudere tutto. Prima ha fatto finta di niente lasciando che appunto in queste comunità si tenessero stili di vita evidentemente incompatibili con il contenimento del virus e poi ha preferito chiudere tutto. Ma non solo, nello stesso tempo, e di questo ci informa LOCHA, cioè l'Ufficio per i diritti umani dell'ONU, nello stesso tempo, durante il primo lockdown e nel periodo successivo, le autorità israeliane hanno condotto la più intensa campagna di demolizione di edifici palestinesi degli ultimi cinque anni. Abbattendo questi edifici di cui tra l'altro una parte anche consistente erano edifici costruiti con donazioni umanitarie, cioè erano quindi edifici che erano stati costruiti per i più poveri tra i palestinesi che già, come sappiamo, non sono particolarmente ricchi. Ecco, conducendo questa campagna, che cosa è successo? È successo che centinaia e centinaia di palestinesi sono stati trasformati dall'oggi al domani in homeless, favorendo evidentemente anche qui la diffusione del contagio. Non è certamente Israele un caso unico, pensiamo al Brasile di Bolsonaro, però fa abbastanza specie vedere come la politica politicata passi sopra le ragioni della salute dei cittadini, persino in uno Stato come Israele che per il primo lockdown aveva addirittura mobilitato i servizi segreti, proprio per controllare gli spostamenti delle persone e quindi la diffusione del virus.